Le tariffe su Ethereum e TH schizzano a livelli insostenibili, di nuovo. Le tariffe di transazione possono fungere da indicatore vitale dell'attività e della congestione di una rete. Recentemente, Ethereum, la blockchain al cuore delle rivoluzioni DeFi e NFT, ha visto le sue tariffe aumentare a livelli che molti utenti considerano eccessivi. Questo aumento delle tariffe ha diverse implicazioni sia per la rete che per i suoi utilizzatori. Man mano che la rete si congestiona con transazioni, gli utenti devono pagare tariffe più elevate per dare priorità alle loro transazioni presso i miner. Attualmente, la rete Ethereum sta vivendo una congestione così intensa che la tariffa media del gas ha raggiunto 226 guai, con tariffe elevate che toccano i 227 guai. Questa impennata delle tariffe ha un impatto diretto sui costi delle operazioni di rete. Semplici scambi di token possono costare oltre 160 dollari, mentre interazioni contrattuali più complesse, come quelle coinvolte nelle vendite di NFT, possono superare i 270 dollari. Questi costi diventano proibitivi per transazioni di importo inferiore, escludendo di fatto una quota significativa della base di utenti. Per sviluppatori e progetti, queste tariffe elevate possono soffocare l'innovazione e rallentare lo sviluppo di nuove applicazioni, poiché i test e la distribuzione diventano più onerosi. Gli effetti delle tariffe elevate si ripercuotono sul mercato nel suo complesso, influenzando il prezzo di Ethereum stesso. Sebbene tariffe elevate possano indicare una sana domanda di spazio nel blocco, possono anche portare a una diminuzione dell'attività di rete poiché utenti e sviluppatori cercano alternative più economiche. Questo può creare un circolo vizioso in cui l'attività ridotta porta a un valore di rete inferiore e potrebbe influire negativamente sul prezzo di Ethereum. Inoltre, queste tariffe possono rallentare la crescita complessiva della rete. L'alto costo delle transazioni su Ethereum lo rende meno competitivo rispetto ad altre blockchain che offrono tariffe inferiori. Utenti e sviluppatori potrebbero migrare verso queste piattaforme alternative, che offrono funzionalità simili a una frazione del costo.